qui continuo con gli avverbi li avrete capiti tutti quelli che terminano in mente vanno pronunciati in questo modo forse non sarebbe necessario ma ripetita you want ripetere giova per cui ogni tanto ne inserirò uno perché soprattutto dalle mie parti c'è questo bruttissimo viziaccio qui e anche in sicilia da quanto ne so per cui tutti tutti gli avverbi che terminano o comunque tutte le parole che hanno questo tipo di desinenza finale chiamatela come volete in mente viene letta la prima sillaba che in realtà diventa la penultima poi nella parola con la e aperta ed è assolutamente eccolo qui sbagliato in lingua italiana corretta quindi assolutamente non assolutamente